Questa mattina 26 novembre si è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Comunale di Portembedocle insieme a lei altri consiglieri, si è stato udito tecnicamente, comunque ti hanno convocato per illustrare quelle che sono le problematiche. Qui abbiamo il foglio protocollato che poi metterò in giro l'impressione. Alla fine, a firma tua, si chiede, pertanto a consiglieri comunali tutti per tramite capigruppo, fatte le verifiche, distillare un elenco con le priorità attinenti queste criticità da sottoporre all'amministrazione per la loro definitiva soluzione. Quali sono le criticità e che impressione hai avuto questa mattina? Allora innanzitutto io ho chiesto di essere udito come comitato e devo ringraziare il Presidente del Consiglio e i consiglieri capigruppo che mi hanno invitato. È un vatto storico perché non si era mai verificato che elettori ed eletti dialogassero assieme. Io mi sono limitato semplicemente a dire tutto ciò che sappiamo, cioè le criticità che attraversano il nostro territorio, criticità strutturali. E ho indicato la Contrada Ciuccafa, la via San Caloggio il quartiere Napolitano, il quartiere Invicherna, i grandi lavori, la strada di accesso a Pian del Pero. Ho chiesto particolare attenzione poi per la via Crispi e in particolare via Magellano dove una cascata letteralmente ogni volta che piove si abbatte sulle case dei cittadini e per le strade. Questo è una cosa risolvibilissima subito e ne ho parlato di questo, non mi dilungo qui, anche con l'ingegnere capo. Ho chiesto altresì di sapere di iniziative che avevamo precedentemente intrapreso. A che punto è la pista ciclabile distrutta prima ancora di essere consegnata? Quando saranno fatti questi lavori di ripristino totale come era stato promesso? E infine chiedo ai consiglieri comunali di agire per un'altra nostra iniziativa, quella del famoso serbatoio arrugginito nella nostra spiaggetta. Un consigliere comunale ha detto che già c'erano delle interlocuzione con l'amministrazione. No, no, chi? Facciamoli un nome così. Quale consigliere comunale? Il consigliere Palumbo ha detto in quella sede che già c'era una sorta di interlocuzione tra amministrazione ed Enel per levare questo serbatoio. Ben venga, siamo contenti, a noi interessa il risultato, però è evidente che noi siamo con le antenne tese. questo spazio che l'Oiacono si è meritato col suo continuo spingere, proporre, denunciare, mettendoci la faccia come suol dire ed essendo propositivo, è aperto a tutti quelli che vogliono parlare. Io che sia chiaro non ho nessun interesse, non vivo a Portembedocle, non ho nessun interesse a favore di Tizio Caio Filano nella fattispecie, a favore di l'Oiacono, piuttosto che del sindaco. Proprio sono totalmente estraneo alle vicende embedocline. Dico soltanto, ed è bene che chi ha da parlare faccio un passavanti, chi ha un ruolo però, attenzione, in passato mi avevate detto perché l'Oiacono parla? Ecco, vedete, l'Oiacono parla perché fa la denuncia tant'è che è stato preso in consigliazione dal Consiglio comunale, dal Presidente del Consiglio e dai consiglieri. Quindi dico, se qualcuno ha qualcosa da ribattere, ha qualcosa da dire, evitate di fare i leoni da tastiera. Mi chiamate, mi contattate tramite In Tre Minuti, la pagina Facebook o tramite redazione chiocciolentreminuti.it, io sarò belletto ad ascoltare le vostre ragioni. Se ne avete, per me, ripeto, poco cambia. Ti avevo interrotto, scusami, cosa stavi dicendo? Stavo dicendo che anche il consigliere Scimè è intervenuto e dicendo che chiederà di queste interlocuzioni, che ben vengano, non mi stancherò mai di dirlo, perché a noi interessa l'obiettivo rimuovere questo sgorbio, questo brobrio. Dopodiché, passato un periodo di tempo, insomma, fisiologico, vedremo come stanno le cose e se è il caso, insomma, continueremo ad andare avanti.